Musica Concluse le operazioni di verifica delle schede contestate alle amministrative di Alcamo del 2012, il sindaco in carica aumenta il suo distacco di altri 18 voti, non commenta il primo cittadino a dicembre il pronunciamento ufficiale del CGA. Scompare da Alcamo per quattro giorni, oggi torna a farsi vivo dopo essere stato segnalato alla trasmissione chi l'ha visto, un anziano di 74 anni ritrovato era ricoverato in un ospedale di Messina. Riapre i battenti la scuola elementare media Pirandello di Alcamo, oggi l'inaugurazione dell'apertura del nuovo anno scolastico, fine dei disagi per gli alunni e le famiglie. Via Libera del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2014 di Castellammare del Golfo, manovra ingessata dai costi fissi come i pagamenti degli stipendi per dipendenti e contrattisti. Entra nel vivo la settimana europea della mobilità sostenibile Alcamo e Castellammare del Golfo tra i comuni aderenti, diversi gli eventi in calendario organizzati da entrambi gli enti. Vertice di maggioranza a parte Nicodo con le dimissioni dell'assessore Vincenza Brigano e la rottura con l'Udc individuati criteri per assegnare il posto vacante in giunta. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1, lo avete sentito nei titoli. Si sono concluse le operazioni di verifica delle schede contestate alle elezioni amministrative del 2012 di Alcamo. Il sindaco incarica mentre il suo distacco di altri 18 voti. Non commenta però il primo cittadino. Dopo la sentenza parlerò, dice a dicembre, il pronunciamento ufficiale del CGA. Concluse le operazioni di verifica del voto delle amministrative 2012 ad Alcamo in prefettura Trapani. Secondo quanto emerge dalle primissime indicazioni, l'attuale sindaco Sebastiano Bonventre avrebbe aumentato lo scarto di voti con il suo antagonista al ballottaggio, Niclo Solina, del Movimento ABC. Secondo quanto sostiene il primo cittadino, il suo legale Alessandro Finazzo, tra le schede assegnate o sottratte all'uno e l'altro candidato, sarebbe aumentato lo scarto da Solina di ulteriori 18 voti. In merito non commenta Bonventre, che però conferma questo esito. Al momento non parlo, con rispetto attendo la sentenza, sottolinea, dopo di che mi pronuncerò e ne avrò molte cose da dire. Abbiamo tentato di contattare telefonicamente Solina, che però risulta ancora irraggiungibile. Ci riserviamo di esprimerci, sottolinea Paola Messina, rappresentante di ABC, quando saranno chiusi i verbali che ancora sono in via di definizione in prefettura, come ci è stato comunicato dai nostri legali, e comunque ogni valutazione potrà essere fatta dopo la sentenza del CGA, attesa per dicembre. Ora la Prefettura, che ha effettuato la verifica alla presenza dei legali dei due candidati sindaco al ballottaggio delle scorse amministrative, compilerà un'apposita relazione che sarà inviata al Consiglio di Giustizia Amministrativa, a cui spetterà il compito di pronunciarsi. In realtà, oltre alle schede contestate, su cui Bonventre avrebbe guadagnato altri 18 voti in più sull'avversario, ce ne sono altre su cui ci sono dubbi di interpretazione per l'assegnazione. Su ciò si esprimerà sempre la Commissione Prefettizia, ma in questo caso l'esito non è prevedibile, motivo per cui non è ancora scontata al 100% la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, attesa per il prossimo dicembre. Si è arrivati a questa verifica per effetto dei diversi ricorsi presentati proprio da Sorina, il quale evidenziò come furono assegnati a Bonventre molti voti che, a detta sua, erano invece da annullare per alcuni segni nelle schede. Ricorsi che inizialmente furono respinti, ma che poi vennero accettati, quando emersero indagini della Procura di Trapani, ben due, sul presunto voto di scambio proprio ad Alcamo. In questi due anni ad Alcamo è successo di tutto. Ricorsi, controricorsi, denunce, querele, dibattiti politici e interrogazioni parlamentari. Per l'esattezza sono due procedimenti giudiziari a carico dell'ex senatore Nino Papanie del PD e di alcuni esponenti del suo entoraggio per quanto riguarda il presunto caso di voto di scambio rilavato dalla Procura di Trapani alle scorse amministrative durante le quali vinse il candidato sindaco sostenuto dall'ex parlamentare per l'appunto Bonventre per soli 39 voti di scarto sullo sfidante Solina. Da intercettazioni ambientali emergerebbe per l'appunto la figura dell'ex parlamentare e di molti suoi fedeli accusati di essere stati in grado di condizionare il voto ed alterarne il risultato dietro promesse di denaro e posti di lavoro e distribuzione di genere alimentari. Un processo che vede gli imputati accusati di associazione delinquere finalizzata al voto di scambio, l'altro per voto di scambio. La cronaca, una banda di cinque giovani extracomunitari è finita in manette a Pantelleria. I cinque tunisini sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di furto. A lanciare l'allarme è stato il proprietario di un'abitazione incontrata a Mursia. L'uomo, mentre stava rientrando a casa, ha sentito dei rumori provenire dall'interno della propria casa e ha immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri. I cinque, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati inseguiti e bloccati. Scompare da Alcamo per quattro giorni. Oggi torna a farsi vivo dopo essere stato segnalato alla trasmissione. Chi l'ha visto? Un anziano di 74 anni ritrovato dai familiari era ricoverato in un ospedale di Messina. È stato ritrovato questa mattina Vincenzo Ferrantelli, l'alcamesi di 74 anni di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso. È stata la famiglia che ha informato le forze dell'ordine di avere rintracciato l'anziano che risulta essere ricoverato in un ospedale di Messina dove era in cura per una patologia non grave all'occhio. È stato lo stesso Ferrantelli che si è messo in contatto con i familiari dopo essere stato informato evidentemente che era stata denunciata la sua scomparsa e proprio ieri sera la sua foto era finita in tv alla trasmissione della RAI chi l'ha visto. Ferrantelli, secondo il racconto dei suoi familiari, si era allontanato con la sua auto dopo aver comunicato che sarebbe dovuto andare a Messina per incontrare un avvocato di sua conoscenza. Durante il programma televisivo era oltretutto arrivata una segnalazione di un suo possibile avvistamento proprio ieri a Messina intorno alle 14. Il commissariato di polizia a cui era stata presentata la denuncia dai familiari aveva contestualizzato il caso come un allontanamento volontario. Infatti, secondo gli inquirenti, non vi erano altri elementi per poter invece parlare di scomparsa. Ha quindi un lieto fine questa vicenda, così come era andata a buon fine, la storia del giovane polacco Emil Lemierz, da tempo residente nella cittadina d'Alcamo, anche lui ritrovato dopo qualche giorno. Ma negli ultimi quattro anni si sono verificati altri tre casi, sempre d'Alcamo, che sono rimasti irrisolti e riguardano Gaetano Impellizzeri, Nicolo Aiello e Battista Ruggeri. Il primo, 47 anni, ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso febbraio. Agente di commercio che si occupa di elettrodomestici e automobili, da poco più di un anno viveva con la sua nuova compagna Isola delle Femmine, viaggiava spesso per lavoro e frequentemente si recama in Spagna. La mattina di lunedì 10 febbraio è partito dall'aeroporto di Trapani Birgi, diretto a Bergamo, per un incontro di lavoro. È arrivato alle 8 e nel corso della giornata ha telefonato alla compagna più volte, l'ultimo alle 17. Da allora non si hanno più sue notizie. Aiello, 75 anni, è stato abitualmente ospite di una casa di riposo di Alcamo. Pur avendo bisogno di assistenza, durante il giorno si raccava sempre nella propria abitazione. Il 26 maggio del 2010, però, non è più rientrato alla casa di cura. Va nelle ricerche, nei luoghi dove è solito trasporrere le sue ore libere. Di solito porta in mano una radiolina con cui ascolta musica. Ruggeri, 55 anni, infine ha fatto perdere le sue tracce dal 2011. Era domenica 4 dicembre, quando l'uomo che ha bisogno di cura è stato accompagnato in piazza della Repubblica d'Alcamo dal responsabile della struttura privata che lo ospita. Poco dopo si sarebbero dovuti rivedere per rientrare insieme, ma Battista Ruggeri non si è presentato all'appuntamento, né le ricerche hanno portato a nulla, nonostante l'uomo sia conosciuto molto nella cittadina alcamese. È stato visto l'ultima volta verso le 11 in via all'Europa da una ragazza che lavora in un bar di fronte al supermercato Simpli. L'ha chiamato, ma l'uomo non ha risposto ed ha continuato a camminare nella direzione della montagna. Con sé non aveva né cellulare né documenti. Nuovi furti di cavi di rame negli impianti di prelievo d'acqua di Bresciana. Trapani potrebbero verificarsi i disagi nei turni di erogazione. Domani fa sapere il comune, la situazione migliorerà nelle frazioni, in città si curano dall'ente, si sta lavorando per ridurre al minimo i problemi di distribuzione. Si prevede il ritorno alla normalità, salvo complicazioni tecniche, per sabato prossimo. E torniamo ad Alcamo. Riapre i battenti la scuola elementare media Pirandello. Oggi l'inaugurazione dell'apertura del nuovo anno scolastico, fine dei disagi per gli alunni e le famiglie. Il comune simbolicamente consegna all'istituto la bandiera italiana. Riapre i battenti la scuola primaria dell'infanzia Luigi Pirandello di Alcamo, che fa parte dell'istituto comprensivo Pietro Maria Rocca. Chiusa lo scorso anno scolastico, a partire da gennaio, a causa di alcuni problemi strutturali per ragioni di sicurezza, finalmente i piccoli alunni sono tornati alla normalità dopo i mille disagi dello scorso anno affrontati dalle famiglie, costrette a peregrinare in altre strutture scolastiche. I lavori che si sono prolungati oltremodo non hanno consentito il rientro, come da tabella di marcia, lo scorso anno tra le polemiche accesissime in Consiglio Comunale. Superate le criticità, oggi è avvenuta la consegna della scuola ristrutturata. La scuola è stata chiusa in realtà per diversi mesi per ristrutturazione dei locali. I lavori dovevano essere consegnati nel mese di maggio, però purtroppo c'è stato un eslittamento da parte della ditta, quindi i bambini che erano presso l'Istituto Tecnico, sono stati gentilmente ospitati dall'Istituto Tecnico per evitare i doppi turni, non potevano rientrare entro fine maggio per concludere l'anno scolastico. Ma adesso con l'impegno della ditta che ha consegnato i lavori nel mese di agosto, subito dopo Ferragosto, si può riaprire quindi lo nuovo anno scolastico. È incominciato bene per tutti questi bambini e per gli insegnanti che serenamente affrontano appunto questa novità, questo nuovo anno. L'immobile venne chiuso in seguito ad alcune lesioni alla struttura che furono rinvenute al primo piano. Da qui la necessità della chiusura e del trasferimento degli alunni in blocco in altre strutture. Per la riapertura di questa mattina, simbolicamente, il sindaco Sebastiano Bonventre, con l'assessore Grimaudo e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Scibilia, hanno consegnato nelle mani della dirigente scolastica la bandiera italiana che sarà appesa all'esterno dell'edificio. Ora l'amministrazione comunale si sta muovendo complessivamente sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono in arrivo i fondi intercettati attraverso i bandi emanati dal Governo nazionale e che saranno destinati all'Istituto Navarra, alla Normardo Radice e al Secondo Circolo. Abbiamo già intercettato sin dal marzo scorso un finanziamento superiore ai 500 mila euro all'annetto che già riguarda diverse scuole di Alcamo per la messa in sicurezza. Tente presente che già però lo stato delle scuole di Alcamo non è malaccio se facciamo sempre riferimento ai comuni e ai comuni vicini. Quindi si tratta di interventi più che alto di messa in sicurezza adeguamento a delle norme più che di ristrutturazione vera e propria. E il Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo, Giuseppe Scibilia, in una nota lamenta con rammarico la trascuratezza con cui viene curata la Corte del Collegio dei Gesuiti diventata di ceterra di nessuno per vandali, campo di calcetto per gli sportivi e luogo di incontro per ragazzi che hanno della legalità un'idea molto approssimativa. Continua Scibilia, ritengo sia giunto il momento di agire in maniera radicale e non intravedo al momento altra soluzione se non la chiusura con una cancellata della struttura e relativi controlli notturni per eventuali abusivi o il presidio stabile di una unità di Polizia Municipale con il compito di assicurare anche il controllo del centro storico luogo non sempre di sana aggregazione per i nostri giovani. E conclude infine il Presidente del Consiglio Comunale prendo atto che anche l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Selene Grimaudo ha formulato una nota di contenuto simile e dunque servono non solo maggiori controlli per affrontare la situazione problematica e ulteriori impianti di videosorveglianza ma soprattutto è di fondamentale importanza verificare in tempi reali ciò che succede nelle 24 ore. E ci spostiamo a Castellammare del Golfo via Libera del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2014 manovra ingessata dai costi fissi come pagamenti degli stipendi per i dipendenti e i contrattisti trovati i fondi per incentivare le ristrutturazioni di immobili in centro storico e per sostenere le fasce deboli. Dopo il varo delle aliquote dei tributi il Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo ha deliberato il bilancio di previsione 2014 in vista dei termini di scadenza dell'approvazione della manovra finanziaria per il prossimo 30 settembre un bilancio che come per moltissimi altri enti locali siciliani è sostanzialmente ingessato dalle spese tanto per rendere l'idea quasi un terzo dell'intera manovra vale a dire il 31% per la settezza è destinato interamente per pagare gli stipendi di dipendenti e contrattisti per il resto c'è poco altro praticamente sono state garantite le politiche sociali con interventi di assistenza per diversamente abili aiuti alle famiglie in difficoltà attraverso la predisposizione anche di un contributo per l'affitto e lavori socialmente utili sono stati stanziati 60.000 euro per garantire gli incentivi a chi ristruttura abitazioni in centro storico agevolazioni per le imprese, start-up in base ad un protocollo con Confindustria ed altri 20.000 euro a testa per la riqualificazione dei beni confiscati dalla mafia e i progetti sperimentali nell'ambito sociale per il resto non c'è nulla altro anche perché il comune castellammarese è riuscito a rispettare il patto di stabilità nonostante il saldo negativo superiore ad oltre un milione di euro per il fondo di solidarietà comunale e di contributi statali quasi azzerati la manovra economica tiene conto delle esigenze delle fasce più deboli partendo dalla tassa sui rifiuti il cui peso viene ridistribuito a favore delle famiglie più numerose e soprattutto viene resa meno gravosa per le attività commerciali che vivono anch'essi un periodo di difficoltà importanti afferma l'assessore al bilancio del comune di Castellammare Salvo Bologna puntiamo anche ad attuare una gestione amministrativa che ha per fondamento l'attenzione costante alle spese anche le più piccole abbiamo previsto un recupero di uscite tramite progetti di efficientamento energetico e gestione delle spese telefoniche a votare favorevolmente la manovra sono stati i 13 consiglieri di maggioranza mentre i 7 di opposizione hanno detto no sul bilancio che si sviluppa in un pareggio tra entrate e uscite pari a 42 milioni di euro il sindaco Nicolo Coppola sottolinea che è stato incentrato sull'equità e lo sviluppo economico mantenendo in primo piano la razionalizzazione della spesa al primo posto le politiche sociali seguite dagli incentivi per lo sviluppo economico turistico manutenzioni e interventi ambientali abbiamo cercato di mantenere ed in alcuni casi di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini afferma il sindaco Nicolo Coppola anche se la spending review determina un'ulteriore contrazione della spesa le imposte applicate con l'Imu invariata la Tasi e la Tari prestano particolare attenzione alle categorie più deboli come disabili, pensionati e chi ha il reddito a basso ma anche alle attività produttive che in un difficile momento economico come quello attuale sono le più colpite conclude il primo cittadino ad essere evidenziato che a breve a Castellammare diventerà un cantiere a cielo aperto partiranno infatti le ristrutturazioni della scuola Crispi della torre Benistra Scopello della villa comunale e la riqualificazione di beni confiscati alla mafia e cambiamo argomento entra nel vivo la settimana europea della mobilità sostenibile Alcamo e Castellammare del Golfo tre comuni aderenti all'iniziativa diversi eventi in calendario organizzati da entrambi gli enti a piedi in bici o con i mezzi pubblici entra nel vivo la settimana della mobilità sostenibile tra i oltre 110 comuni italiani che hanno abbracciato l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l'adesione del Ministero dell'Ambiente anche il comune di Alcamo e quello di Castellammare del Golfo la sette giorni per incoraggiare i cittadini ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi all'auto privata nasce con l'obiettivo di contribuire a rendere gli spazi urbani più vivibili diminuendo l'utilizzo di automobili e motorini optando piuttosto per la mobilità ciclistica pedonale del trasporto pubblico puntando anche alla diffusione delle piattaforme di car sharing entrambe le amministrazioni dei due comuni hanno predisposto una serie di appuntamenti in tema ad Alcamo domani alle 11 presso la sala consigliare verranno presentati i risultati del servizio pedibus e il programma per l'anno scolastico 2014-2015 dall'assessorato alla pubblica istruzione l'amministrazione comunale infatti forte del successo e della partecipazione riscossi presso le famiglie i piccoli alunni durante la sperimentazione in alcune scuole primarie della città nell'anno scolastico appena trascorso ha deciso di riproporre il servizio pedibus anche per quello appena iniziato sabato sarà la volta della promozione della mobilità ciclistica cura della FIAB la federazione italiana amici della bicicletta sezione di Alcamo e domenica a partire dalle 9.30 presso il centro congressi Marconi e Piazza Ciullo l'inaugurazione e l'attivazione del servizio di car sharing a Castellammare quattro i giorni di attività questa mattina educazione al codice della strada all'istituto comprensivo P3 a cura del comando di polizia municipale alle 21 alla Villa Margherita il concerto dei Badness aperto da Fabrizia Gioia domani alla biblioteca comunale Barbara Rizzo Giuseppe Salvatore Asta si terrà la tavola rotonda sulle attività attuate a Castellammare del Golfo nell'ambito della mobilità sostenibile sabato 20 alle 10 in piazza Petrolo una lezione pratica sulla sicurezza stradale e alle 11.30 sempre nella stessa piazza il concerto di apertura dell'anno scolastico a cura delle scuole superiori della città alle 18.30 Zumba con la SD Arte in Movimento presso Villa Margherita dove alle 21 seguirà il concerto di Grooving High Band domenica 21 la giornata senza auto anche a Castellammare sarà presentato il servizio di car sharing alle 9 ai quattro canti si chiude alle 21 all'Arena delle Rose con il musical aggiunge un posto a tavola a cura del gruppo di giovani gli amici di Gabriele della parrocchia di San Paolo della Croce inizieranno lunedì 22 settembre i lavori per il rifacimento del manto erboso del Nino Vaccara lo stadio comunale di Mazzara del Vallo per il quale era diventato indifferibile un intervento di riqualificazione il progetto redatto dai tecnici comunali prevede la sostituzione dell'attuale manto erboso non più in linea con il regolamento LND standard con uno di ultima generazione destinato ad ospitare i campionati FIGC LND ad aggiudicarsi il pubblico incanto per la fornitura del manto la ditta Limonta Sport di Cologna al Serio in provincia di Bergamo che ha offerto un ribasso del 21,33% su un importo a base d'asta di 292 mila euro i lavori di dismissione delle canalette e gli ulteriori lavori edili saranno invece effettuati dalla ditta Danna Giuseppe di Palermo vincitrice della relativa gara con un ribasso del 32,85% sull'importo a base d'asta di 134 mila euro Avvicendamento tra il colonnello De Stefano e il colonnello Capasso al comando del 37esimo stormo dell'aeronautica militare di Trapani-Birgi grande cerimonia per ufficializzare il passaggio Passaggio di consegne al comando del 37esimo stormo presso l'aeroporto militare di Trapani-Birgi tra l'uscente il colonnello pilota Lorenzo De Stefano e il subentrante colonnello pilota Luca Capasso la cerimonia che ha visto la partecipazione delle più alte autorità militari civili e religiose cittadine e ovviamente di tutto il personale militare civile schierato è stata presieduta dal generale Maurizio Lodovisi comandante della squadra aerea accompagnato dal generale Nicola Lanza De Cristoforis comandante delle forze da combattimento entrambi si sono congratulati con il comandante uscente rivolgendo il plauso a tutto il personale dello stormo per gli eccellenti risultati raggiunti nel discorso di commiato De Stefano ha definito il proprio periodo di comando un'esperienza che mi ha trasformato radicalmente quello che ho appreso ha dichiarato è stato di portata smisurata ogni reparto dell'aeronautica militare ha le proprie particolarità il guaio o meglio la fortuna è che il trentasettesimo stormo le ha tutte insieme e rivolgendosi al proprio personale ha proseguito dicendo la capacità di risposta dello stormo alle emergenze non ha uguali e non lo dico perché di parte è una peculiarità che distingueva il personale già prima che io arrivassi lo avete dimostrato sempre in ogni circostanza a conclusione del proprio intervento ha inirizzato un augurio per il nuovo e prestigioso incarico assunto al colonnello Capasso che ha voluto sottolineare che comportamento etico lavoro di squadra e comune desiderio di continuo miglioramento saranno gli ingredienti indispensabili e fondamentali che consentiranno di perseguire al meglio i compiti affidati dal paese nonché per mantenere le attività dello stormo ai massimi livelli di qualità ed efficienza e confermare quindi il ruolo di reparto di punta dell'aeronautica il trentasettesimo stormo base operativa avanzata nazionale nel solco tracciato da una lunga tradizione iniziata nel lontano 1923 contribuisce al controllo e alla sorveglianza dello spazio aereo sulle acque sul territorio nazionale attraverso i verivoli Eurofighter in dotazione al diciottesimo gruppo caccia intercettori predisposto a Marsala dal settore grandi opere diretto dall'ingegnere Gianfranco Dorazio un progetto per rendere più efficienti gli impianti della pubblica illuminazione compresi quelli semaforici un investimento complessivo di 8 milioni di euro per il quale il commissario straordinario ha richiesto un finanziamento alla regione assessorato energia a valere sui fondi del piano Jessica del FESR 2007-2013 e con accollo di mutuo a tasso zero nel progetto è previsto sia il ripristino di circa 16.000 corpi illuminanti e la sostituzione delle lampade dei semafori con altri a basso consumo a progetto finanziato e lavori ultimati si prevede un risparmio per le casse comunali di circa un milione di euro vertice di maggioranza a partinico dopo le dimissioni dell'assessore Vincenza Brigano e la rottura con l'Udc individuati i criteri per assegnare il posto vacante in giunta spetta alla lista senza rappresentanza in consiglio che ha ottenuto più voti ma anche il partito democratico scalpita il sindaco salvo lobiundo impone il dictat agli alleati entro 24 ore voglio il nominativo del nuovo assessore e non dovrebbero esserci problemi di sorta dal momento che la coalizione nel vertice di maggioranza di ieri sera ha praticamente quasi chiuso il cerchio sono stati individuati collegialmente i criteri a cui attenersi per individuare il nuovo assessore che poi altro non sono che il rispetto rigoroso del manuale Cencelli in sostanza tutti d'accordo nel garantire visibilità dando priorità a quelle forze politiche che pur non essendo rappresentate in consiglio comunale hanno incassato più voti alle scorse elezioni amministrative alla coalizione a sostegno dell'attuale primo cittadino quindi il nome del nuovo assessore dovrà aspettare alla lista civica svolta per parte in Ico i cui rappresentanti di spicco sono l'ex consigliere comunale Vito Giuliano e il già assessore Toto Chimenti unico dubbio è per il nominativo da esprimere che dovrà essere necessariamente donna nel corso del vertice di maggioranza non è filtrato alcun nome ma sotto questo aspetto l'obbiondo è stato chiaro e cioè vuole subito il nome in modo da poterlo già ufficializzare domani l'obiettivo è rimpiazzare subito la pena dimessa Vincenza Briganò i cui strascichi col partito di appartenenza l'Udc sembrano essere pesanti al vertice di ieri sera sottolinea il coordinatore cittadino dello scudo crociato Enzo Briganò non sono stato invitato ritengo questa una decisione politicamente grave quali saranno le conseguenze ha chiuso le porte in faccia non solo al sottoscritto ma ad un partito intero il vertice di maggioranza più complessivo che riguarda l'intera coalizione riflettori puntati anche sull'altra lista civica è rimasta senza rappresentanza progetto Partinico il sindaco sottolinea uno dei rappresentanti della lista l'ex assessore Nini Provenzano ha detto alla coalizione che anche alla nostra forza politica toccherà la giusta visibilità prendiamo atto di questo attestato di stima pare che l'orientamento a circa 4 anni dalla chiusura della legislatura sia quello di fare una staffetta in giunta con svolta per Partinico ma c'è ancora un ultimo nodo ed è quello legato al Partito Democratico che nel tempo si è ingigantito oggi conta ben 5 consiglieri a sostegno del primo cittadino ma un solo assessore in giunta c'è chi spinge per avere maggiore visibilità in bilico potrebbe esserci anche se non nell'immediato l'assessorato al momento in mano a Diego Campione che non ha alcuna rappresentanza in consiglio non è un problema di poltrone precisa il consigliere comunale di maggioranza Vito D'Amico ma di programmazione mi auguro che il nuovo assessore e la giunta al completo lavorino per raggiungere obiettivi e risultati per il territorio sabato prossimo nella splendida cornice del Tempio di Segesta il chitarrista Francesco Buzurro sarà protagonista dell'incontro dal titolo Una chitarra una passione Francesco Buzurro si racconta terzo appuntamento della rassegna tra Monti e Enimi da Segesta a Calatafimi nel corso della conversazione l'artista siciliano racconterà insieme alla sua amica e produttore Alfredo Lofaro la propria storia di chitarrista dall'inizio degli studi alle prime composizioni dai concerti degli esordi ai più importanti teatri del mondo dalla musica classica alla scoperta del jazz passando per la musica folk alternando parole e musica il musicista proporrà inoltre alcuni brani tratti dal suo nuovo disco il quinto elemento che uscirà il 7 ottobre San Vitolo Capo si prepara al più atteso appuntamento dell'anno da domani la rassegna aspettando il Cuscus Fest tra i grandi ospiti della manifestazione quest'anno Gino Strada lo chef Sadler e Pino Daniele ormai diventato l'evento clou dell'anno di San Vitolo Capo rendendo celebre il piccolo centro marinaro praticamente in tutto il mondo torna dal 23 al 28 settembre il Cuscus Fest il festival internazionale dell'integrazione culturale arrivato alla 17esima edizione quest'anno la Kermess si amplia ulteriormente e dopo il Cuscus Fest Preview che si tiene da qualche anno a questa parte a primavera prenda il via domani la quattro giorni dedicata ai più impazienti denominata aspettando il Cuscus Fest in programma per tutto il fine settimana fino a lunedì incontri i talk show dedicati a temi d'attualità del premio Saturno il cabaret di Sasa Salvaggio ed Ernesto Maria Ponte la musica di Giacca ed Eco Exist già da questo weekend partono le degustazioni al villaggio gastronomico aperto da mezzogiorno a mezzanotte con oltre 30 ricette tra tradizione varianti internazionali e una senza glutine i menu sono ovviamente a base di Cuscus ma anche di pesce azzurro fornito dai pescatori di San Vito i visitatori potranno partecipare anche alle elezioni di cucina condotte da chef sammitesi che insegneranno tutte le fasi di preparazione di una ricetta dall'incocciata al condimento sia per il piatto tradizionale che per il Cuscus precotto da martedì invece parte ufficialmente il festival con un programma ricco di novità per la prima volta nella storia della manifestazione saranno 10 i paesi che parteciperanno alla gara gastronomica internazionale Costa d'Avorio Francia Israele Italia Libano Marocco Palestina Senegal Stati Uniti e Tunisia con il debutto del Libano che non ha mai partecipato alla rassegna durante la prima serata sul palco ci sarà Gino Strada fondatore di Emergency che racconterà i vent'anni dell'organizzazione umanitaria grandi chef quest'anno presenteranno le loro creazioni da Gennarino Esposito a Claudio Sadler da Filippo Lamantia Giancarlo Morelli e Stefano Cerveni raccontati da Andy Vuotto la showgirl Eliana Chiavetta la blogger Chiara Maci e Fede del duo Fede Tinto di Decanter sono migliaia i visitatori che vengono nella nostra cittadina in occasione della manifestazione premiando la nostra offerta turistica culturale di intrattenimento ha dichiarato Matteo Rizzo sindaco della cittadina segno dice di una manifestazione che piace diverte e lascia tutti con il sorriso e le ricadute in campo turistico ed economico sono rilevanti per il nostro territorio la sera i concerti gratuiti con nomi anche di grande spicco Pino Daniele Irene Grandi Tinturia ma anche i tarantolati di Tricarico e Matrimia domenica spazio anche all'alta moda si chiude infatti con la collezione dal titolo La Grande Bellezza firmata dalla stilista Francesca Di Maria e andrà in onda sabato alle 9.05 su Radio Rai 1 un servizio su Mazzara del Vallo all'interno della trasmissione inviato speciale settimanale del giornale Radio Rai che propone inchieste e reportage in Italia e nel mondo Roberto Taglia Legna che cura il programma ha effettuato un reportage su Mazzara e sulle sue peculiarità di città multietnica e multiculturale e si conclude così questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per averci seguito adesso vi lascio alla consueta rubrica 3 minuti con click del professore Vincenzo Lucchese grazie e arrivederci Buongiorno a tutti determina dirigenza 1649 del 5 di agosto 2014 liquidazione retta all'associazione servizi e promozione umana comunità Agape dal primo di maggio 2014 al 30 giugno 2014 36.550 euro determina dirigenziare la 1650 del 5 agosto 2014 liquidazione Antonio e Sergio Mule 27 che sono in pratica sono diciamo rette che si danno a queste comunità 27.414 euro poi abbiamo anche la 1651 è sempre stessa società questa volta la Sacchini 33.436 euro poi abbiamo invece determina dirigenziare la 1588 dell'8 di agosto estate Alcamesa associazione sportiva i cavalieri del mito della storia praticamente sagra uva sfilata carrette siciliane 1200 euro qui è Mucaria Domenico di Calatafimmi illegale rappresentante poi abbiamo la determina dirigenziare 1584 del 28 luglio impegno diciamo per il servizio funerario di uno straniero Monteano Nicolaus 1600 euro in pratica è morto un signore straniero siccome non aveva soldi non aveva nessuno il comune si è impegnato per farlo ritornare e ha speso 1600 euro andiamo avanti e parliamo invece di una determina 1678 dell'1 di agosto diritti siae in agosto estate alcamese la si è beccata 4.151 euro poi determina dirigenziare 1632 liquidazione fattura alla ditta Made in Sicily di Abruzzo e Leonora per concerto realizzato il 10 maggio 14 centro congresso Marconi 5.000 euro determina dirigenziare la 1645 luminari artistiche di Ribaudo Pietro festeggiamento Maria Santissima dei Miracoli 7.000 euro la determina 1689 dell'8 di agosto spesa di 350 euro per il terzo Memorial Alberto Ingrao determina dirigenziare 1649 dell'11 agosto associazione Coine per manifesto nuove impressioni alcamo estate 3.500 euro sur di domenico il rappresentante determina 1712 del 13 agosto 2014 deblattizzazione e disinfestazione alla Dasca 6.329 euro 1589 del termine dirigenziale estate alchimese impegno spesa macelleria d'angelo Isidoro specialità pronto ecco ecco per catering cena del 29 setta al castello dei conti di Modica c'era stata la manifestazione itica itaca mediterranea student forum 3.000 euro e quindi c'era stata questa questa spesa per andare a mangiare e poi abbiamo che cosa abbiamo una determina sindacale che la delega al signor Solina Nicolò ufficiale stato civile delegato dal sindaco per celebrare il matrimonio di Arduvino Vincenzo e Gerardi e Maria Alessia a cui faccio tanti auguri perché è mezza parentemia il determina 1696 11.8 2014 convenso aspettante al personale dipendente appartenente ai vari settori per reperibilità dal primo semestre 2014 la reperibilità è stata di 26.783 ho trasmesso grazie come sempre vi ringrazio sentitamente e ci risenteremo la prossima volta e ci risenteremo la prossima volta